Una buona notizia per gli impianti sportivi napoletani. L'assessore allo sport Ciro Borriello ha incontrato a Roma l'amministratore delegato della CONI Servizi che ha accolto positivamente la richiesta di finanziamento pari a 3 milioni di euro per far fronte alle emergenze delle strutture cittadine. Abbiamo iniziato una buona discussione che porterà anche poi finalmente all'affido di queste strutture sportive attraverso un bando che sarà pubblico. Quindi chiediamo la consulenza straordinaria del CONI non soltanto per gli aspetti tecnici e saranno qui la settimana prossima per fare i rilivi sulle strutture sportive che ha bisogno di interventi straordinari. E poi col credito sportivo abbiamo sancito questo accordo che sarà frutto di un protocollo d'intesa con il credito sportivo CONI, con i servizi e comune di Napoli dove sperimenteremo una forma nuova di collaborazione per risolvere le emergenze che in questi giorni stiamo attraversando per i nostri impianti sportivi.